Due rotatorie chiave per migliorare il flusso veicolare e l'accesso al porto, la prima fra Viale Campielisi e Via San Marco, nei pressi del ponte della Ferrovia e del supermercato PAM, la seconda all'incrocio fra Via Italo Svevo e Via Doda, in zona Scalo Legnami. Un progetto seguito sin dalle prime idee progettuali da Telequattro e portato avanti da Michele Babuder di Forza Italia, insieme all'ingegner Giulio Bernetti, l'architetto Andrea De Walderstein, l'ingegner Silvia Fonzari e il geometra Edoardo Collini, che vede ora la luce grazie a un accordo fra Autorità Portuale e Comune di Trieste che condividono lo stanziamento necessario da 800.000 euro complessivi. La prima si occuperà della progettazione di Via Svevo, il comune di Via Campielisi. Siccome chi abita da quelle parti sa benissimo se avrà saputo che noi stiamo lavorando per l'immissione diretta del nuovo sistema Servola e piattaforma logistica sulla grande viabilità, ma stiamo parlando di cose che arriveranno nel giro di qualche anno, la soluzione chiaramente della rotonda va comunque a sanare nel breve quelle che sono situazioni di passaggio di traffico veicolare pesante. Il progetto dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2024, al netto dell'attuale difficoltà delle amministrazioni locali, nel trovare ditte disposte a prendere in mano gli appalti in considerazione delle centinaia di cantieri ancora aperti per l'onda lunga dei bonus edilizzi. Quando esci da Via Von Brook per rimetterti, stiamo parlando davanti alla Pamli eccetera, c'è un bel caos, ogni volta si rischiava veramente, di fatti è da anni che parliamo di questo, finalmente oggi siamo arrivati, la Via Von Brook era un problema, dall'altra parte stessa cosa con i tir che escono dal porto per rimettersi sulla Via Svevo credono e per entrare nella grande viabilità, per cui tutte e due veramente, due cose molto molto interessanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.